Musica Con l'approvazione dell'assestamento e della salvaguardia dei equilibri di bilancio, il Comune dell'Aquila si dota dello strumento economico e finanziario da 30 milioni, dove a farla da padrone saranno ambiente sociale, taglio le spese di rappresentanza e niente ulteriore aumento della Tari. I 16 milioni arrivati dal Governo nei giorni scorsi hanno fatto sì che la tassa sui rifiuti non schizziasse alle stelle, come ha spiegato il sindaco Massimo Cialente, che ha aggiunto come all'Aquila non si paghino tasse più degli altri comuni italiani. La lotta all'evasione fiscale poi sarà un ulteriore impegno dell'amministrazione comunale, come spiegato all'assessore a ramo Giovanni Cocciante. Però era un bilancio, come dico io e come qualche giornata rionizzata a zero, nel senso che abbiamo dato il bilancio per evitare il commissariamento, alcuni capitoli come il turismo che gestisco pure io da un punto di vista politico era zero, ecco perché non si poteva fare diversamente, visto che il Governo non aveva stanziato un centesimo né nella legge di stabilità né nel mito e proroghe. Per esempio abbiamo fatto il progetto obiettivo per il recupero dei muconi, abbiamo detto che è stato un grande lavoro fatto dalla struttura e ha permesso di recuperare circa 6 milioni e 8 che possono essere impiegati per opere pubbliche anche quest'anno, oltre che ovviamente per gli anni a venire. I debiti fuori del bilancio e il teo sedile non finiscono mai. Io l'avevo promesso, ricorderei, di quando mi sono insediato otto mesi fa e lì sto tirando fuori uno per uno, perché è giusto che i cittadini sappiano, ma i debiti fuori del bilancio non sono stati fatti 5-8, ma parlo di debiti fuori del bilancio di 10, 15, 20, 30 anni fa, come per esempio il parcheggio di Santa Maria di Colle Maggio, dove abbiamo un debito con l'impregido di circa 10 milioni e mezzo di euro. Nei giorni scorsi ha destato clamore l'inchiesta che ha portato alla segnalazione alla magistratura per spaccio di droga di due persone che frequentavano l'asilo occupato, una struttura che dà anni al centro di molemiche e nella quale per i salvignani in Consiglio Comunale è necessario effettuare un sopralluogo, come spiega il capogruppo Luigi Deramo. Io credo che vada messa la parola fine a questa drammatica e squallida vicenda. Sono anni di illegalità che si susseguono all'interno di un immobile occupato, tra l'altro catalogato B, quindi inagibile, all'interno del quale sembrerebbe esserci addirittura un'attività di somministrazione di bevande e quindi un bar senza nessun tipo di autorizzazione. Le spese dell'energia elettrica sembrerebbe che le stia pagando il Comune da 4-5 anni a questa parte. Qui si arriva al paradosso che si cacciano fuori i cittadini del progetto Casa che non ce la fanno a fine mese a pagare le bollette e si paga l'energia elettrica all'interno di un immobile occupato. Per di più siamo arrivati anche come città a dover assistere alle ultime notizie e cioè che all'interno di questo immobile sembrerebbe ci sia stato anche un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Credo che l'amministrazione abbia il dovere immediato di riportare una situazione di legalità all'interno della città e nei confronti di un proprio immobile. Tra l'altro è assurdo che un consigliere comunale non possa di fatto avere accesso a un immobile di proprietà del Comune. Quindi per questo, anche per verificare cosa realmente c'è lì dentro, abbiamo ufficializzato questa mattina e chiederemo che, accompagnati con tutte le autorizzazioni di legge, di poter entrare per fare un sopralluogo all'interno dell'asilo occupato. Due giovani studenti e una dipendente del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila saranno i protagonisti del corteo storico della bolla della 722esima edizione della perdonanza celestiniana. La dama della bolla, della croce e il giovin signore sono stati presentati questa mattina a Palazzo Fibioni. La dama della bolla è Eleonora Ciocca, 30 anni, laureata in giurisprudenza, dipendente del Gran Sasso Science Institute. Ferdinando Carlucci è il giovin signore, 19 anni, studente di economia e commercio, nato ad Avezzano ma residente all'Aquila. Francesca Pancella invece è la dama della croce, 22 anni, studentessa di ingegneria aquilana. Spero che quest'anno in particolare la partecipazione della cittadinanza sia veramente molto attiva, perché questi riti, queste manifestazioni, queste tradizioni sono molto importanti per ricostruire il tessuto sociale della città, che ne ha tanto bisogno. C'è una descrizione per questa emozione, soltanto quello che penso è che è un onore portare questo vestito, perché si rappresenta una città in un momento delicato, diciamo difficile, perché a sette anni dal terremoto siamo in una situazione di ricostruzione dove non solo le case vanno ricostruite, ma anche la mentalità e anche quello che è essere aquilano. Per me è molto importante, soprattutto perché è un modo per dire io ci sono e io è da sempre che partecipo al corteo come figurante e quest'anno portare la croce, che è il ringraziamento al cardinale della perdonanza appunto di questo giubileo, è veramente bellissimo. Quest'anno i ragazzi simboleggiano la formazione e l'alta formazione della nostra città, ha detto il sindaco Cialente nel presentare i protagonisti del corteo del 28. Il corteo storico di domenica è diviso in due tronconi, il primo con la bolla del perdono partire alle 16 da Palazzo Fibioni, il secondo dalla villa comunale, si incontreranno come sempre sul prato di Colle Maggio e arriveranno in tempi diversi, un'esigenza che si è resa necessaria per smaltire l'affluenza e permettere un passaggio regolare vista la presenza dei cantieri della ricostruzione. L'altra novità di quest'anno è l'apertura parziale della basilica di Colle Maggio. Torna la Coppa della Pace, città di L'Aquila, trofeo Goldbet, che il 27 e il 29 agosto animerà lo stadio Tommaso Fattori in occasione della perdonanza celestiniana, con un triangolare che porterà in città le primavere di Juventus, Pescara e Roma. Lo scopo del torneo è affidare ai giovani il messaggio di pace tanto caro a Celestino Quinto, defezione dell'ultimo minuto quella del Torino, che è impegnato nel torneo Mamma Cairo. La Coppa della Pace rientra proprio nell'ambito dei messaggi della perdonanza, di cui ci facciamo carico ovviamente ogni anno, in particolar modo quest'anno è stato inserito questo torneo come uno dei principali avvenimenti della perdonanza numero 722, perché in particolare in questo momento c'è bisogno di un messaggio di solidarietà, un messaggio di pacificazione e lo si può fare ovviamente anche passando attraverso uno sport che è rivolto per lo più a persone che comunque hanno una carica emotiva in più, ma che sa benissimo ciascuno di coloro che ovviamente sarà presente allo stadio, sa benissimo che è tutto organizzato però nell'ambito di questo messaggio della pace e della pacificazione. Si parte il 27 agosto alle 19 con Roma Pescara, il 29 alle 19 la finalissima tra la vincente della prima gara e la Juventus, che arriverà con un allenatore doc abruzzese e campione del mondo, Fabio Grosso. Obiettivo del torneo far conoscere anche a queste grandi realtà blasonate il territorio aquilano ricco di calcio, giovani interessanti e occasioni per organizzare manifestazioni calcistiche di portata nazionale e internazionale, come probabilmente si tenterà di fare il prossimo anno proprio grazie alla collaborazione della Juventus. Però ci fa grande onore e grande piacere anche il fatto che la Juventus faccia 1600 chilometri soltanto per omaggiare l'Aquila e il nostro torneo e verrà con tutto alla primavera e verrà soprattutto anche con una personalità importante che è Pessotto. Questo torneo l'abbiamo voluto già dall'anno scorso e devo ringraziare il comitato per donanza e il sindaco perché rientra un po' in quelli che sono gli obiettivi del sociale dell'Aquila. Oggi sappiamo che l'Aquila deve ripartire da giovani e chi meglio dello sport e soprattutto del calcio può innescare e riaggregare i nostri giovani.